Good morning Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, come state? Oggi è venerdì 21 giugno, thanks God, is a Friday, ma soprattutto welcome to the summer, the summer of city. Benvenuti nell'estate, inizia oggi l'estate, ancora una settimana di programmazione di Good Morning Milano e poi iniziano anche le nostre vacanze. Elisa, sei contenta in regia? Sì, con la testa, ma ti mancherà però, lo so, che ti mancherà svegliarti alle 5 del mattino, che ti mancherà il traffico sul tangenziale Ovest, che ti mancherà non trovare posteggio qui fuori, che ti mancheranno le multe dei vigili quando la dobbiamo mettere un po' così perché altrimenti iniziamo la diretta. Insomma, ti mancherà tutto questo, ne sono strassicuro e spero che anche a voi mancherà la nostra smissione, ma noi comunque ci torneremo e saremo di nuovo qui a settembre. Ma, oh, attenzione, abbiamo ancora una settimana, quindi godiamocela ancora questa settimana che sta arrivando. Le scuole ormai sono quasi tutte finite, seconda prova di maturità che è andata, adesso poi iniziano gli orali, c'è chi li fa già entro fine mese, c'è chi li finirà intorno alle prime decine di luglio, ma appunto noi siamo qua per raccontarvi un po' tutto quello che succede in città. I giornali sono pronti, il WhatsApp è pronto, 3317853555. Oggi è oltretutto il compleanno di un grande artista che io ho amato tantissimo durante la mia adolescenza, che è Manu Chao, nel 1961 nasceva a 63 anni per Manu Chao e quindi apriamo con Manu Chao, con Clandestino. E tanti auguri allora a Manu Chao per il suo compleanno, oggi appunto dicevamo 63 anni, un altro compleanno sempre oggi, 42 anni invece per il principe William, William Windsor, è proprio lui, sì, il principe William, il prossimo erede al trono d'Inghilterra. Lui compie oggi 42 anni, è nato il 21 giugno del 1982, relativamente giovane e sicuramente non giovane quanto coloro che hanno appunto fatto la maturità in questi giorni, che stanno facendo la maturità in questi giorni. Ricordiamo mercoledì siamo stati appunto davanti al Carlo Porta, così a sondare, a sentire il sentiment, i rumors a pochi minuti, proprio prima dell'inizio della prima prova d'esame, che ha visto, come sapete, uscire il tema su Pirandello, Ungaretti, oppure quello sui diario social, quel tema lì, appunto il Corriere della Sera Milano scrive maturità, la prima prova a Milano, i liceali su Pirandello e Ungaretti, il paragone diario social, il preferito dei tecnici. Le tracce sono state definite interessanti, questa è l'opinione comune. Mi aspettavo un tema sull'intelligenza artificiale, ma forse era troppo scontata, dicono alcuni studenti. La traccia sulla guerra fredda dava spunto anche per parlare dei conflitti odierni. E così appunto dopo l'esame sappiamo che 24.800 studenti milanesi, che appunto ieri hanno fatto la seconda prova, hanno fatto invece lunedì quella della prima ed è stato appunto i più gettonati, Pirandello e Ungaretti per i licei, invece quello tra il paragone tra il vecchio diario, il blog e i social nella società della comunicazione appunto nei più, diciamo, nei tecnici. Anche se molti hanno risposto, ma che siamo nel 2014, che è il blog, cioè nel senso, effettivamente la traccia era leggermente un po' fuori tempo, non fuori tempo ma fuori tempo. Il confronto tra i vecchi diari, che magari vengono anche studiati nella scuola, con situazioni importanti della storia o diari famosi, non solo tragici, perché so che molti di voi in questo momento stanno pensando, ma so, ai diari di Anna Franco, non è solo quello, ci sono tanti altri diari, per fortuna, nella storia, che non sono solo tragici, nonostante l'importanza anche di leggere quel tipo di racconto che è fondamentale per farsi una coscienza, per crescere cittadini amanti della democrazia, mi verrebbe da dire. La cosa interessante però appunto è che in questo titolo ci ha segnato anche questa cosa dei blog, che ormai, molto probabilmente i ragazzi di oggi, è più facile che sappiano che cos'è un diario cartaceo, di una volta, perché magari hanno studiato, l'hanno sentito parlare così, piuttosto che un blog, mi viene da dire, no? E quindi, insomma, diciamo che i più tecnici attenti, i più tecnoattenti, i più tecnoaddicted, coloro che magari parlano di tecnologia ottigioni, hanno detto, ragazzi, magari quando facciamo le tracce su questi temi, cerchiamo comunque di stare al passo con i tempi, no? Perché noi, da una parte si parla di blog, dall'altra, ten ten, non so se avete sentito cos'è, social, pazzesco, arriva dalla Francia, sta spopolando, il cellulare praticamente ti è sempre acceso anche quando è spento, posso comunicare con te in qualsiasi istante, insomma, è una roba abbastanza invasiva, anche su cui la Commissione Europea sta già incominciando anche ad aprire un po' di fascicoli per capire meglio di cosa si tratta. Comunque, bene, seconda prova, però poi ne parliamo, cosa sono usciti, il greco, mi sembra c'è stato, Platone, una piazza da progettare ha dato i geometri, invece, bellissima come prova, mi sarebbe piaciuto tantissimo fare, io, esperto giocatore di SimCity, avrei potuto tranquillamente fare grandissime cose. Sentiamo invece come è andato il traffico, anzi, come è in questo istante. E questo era Joglier, alle 7.21 minuti, quando rientriamo appunto a parlare ancora di maturità, perché? Perché ieri c'è stata la seconda prova e allora leggiamo da Repubblica Milano maturità da Platone al Classico alla piazza da progettare per i geometri, i giudizi degli studenti milanesi sulla seconda prova. Per i ragazzi del Classico la versione di greco non è stata difficile, soddisfazione per matematica anche allo scientifico e ora, ovviamente, si pensa agli orali al via da lunedì. Come funziona la seconda prova? Tradurre versioni, comprendere e contestualizzare test in lingua, risolvere problemi e quesiti matematici, progettare spazi, viaggi ed elementi di design, ma anche capi di abbigliamento, opere d'arte e variazioni di danza, perché la seconda prova dell'esame è dedicata a una delle materie di indirizzo, quindi diversa a seconda della tipologia di scuola. è senza dubbio lo scritto più temuto dei maturandi, perché ce ne siamo accorti anche durante le nostre interviste, io sono leggero da Repubblica Milano adesso, ma ce ne siamo accorti anche nelle interviste che abbiamo fatto mercoledì, sul tema, ad esempio, sulla prima prova d'italiano, erano abbastanza tranquilli, nel senso che dicono, vabbè, esce qualcosa, qualcosa so raccontare così. Sulla prova più specifica, su cui ovviamente hanno studiato di più, sicuramente, è l'indirizzo loro, cioè la materia di indirizzo loro, ma, ovviamente, le aspettative dei professori sono anche più alte, e quindi su quello vengono, come si dice, ti aspetto al barco, no? E quindi erano molto, molto tesi per la seconda prova più che per la prima. Tant'è che ci sono alcune interviste, e, ad esempio, questa mattina ero terrorizzata, temevo che avessero scelto un testo molto complesso, magari di Aristotele, vedendo la traccia, poi mi sono tranquillizzata, non era una versione semplice, ma proporre Platone e la mitologia significa voler mettere a proprio agio gli studenti del classico. Questa, ad esempio, dice Paolina Leucci, che è una studentessa, appunto, al Berche. La cura è l'interesse verso gli studenti che sono mancati negli anni della pandemia, dice, è un po' forse quello. Effettivamente, i ragazzi che si stanno diplomando in questi giorni sono quelli che hanno subito la pandemia nei primissimi anni del loro percorso scolastico, quindi, insomma, che sicuramente ha lasciato strascichi nella loro educazione, nella loro formazione, nella loro socializzazione. Insomma, sappiamo quanto è stato difficile per loro quel momento, soprattutto, ecco, diciamo. Io sono curioso di sapere, i nostri amici dell'alberghiero, invece, cosa hanno portato. Chi sarà stato a portare la cheesecake che nessuno si magna? No, nel senso, io spero nessuno. Chi avrà fatto il cocktail migliore e ha stroncato la giornata a tutta la commissione? Perché abbiamo sentito che i ragazzi e ragazze che studiano sala, ad esempio, portano anche dei cocktail che vengono fatti lì al momento e poi assaggiati alla commissione che, ovviamente, torna a casa completamente brilla e molto felice di essere stata al lavoro. È forse l'unico, uno dei giorni in cui sicuramente sei felice di andare al lavoro. O meglio, sei felice quando torni a casa al lavoro. Dizio, proprio sei molto, molto contento. Quindi sono molto curioso. Magari dopo proviamo a sentire il ragazzo quello che avevamo sentito in intervista. Lo dico anche a Elisa in regia. Qual numero? Adesso proviamo a sentirlo. Insomma, le prove sono andate bene. Ai geometri hanno, pensate, chiesto di creare un progetto per una piazza nuova, pensate. Poi, tra i compiti più pesanti da svolgere in una giornata c'è quello degli allievi di tecnologia del legno e del territorio. Pensate, parte del corso di costruzione, ambiente e territorio che hanno dovuto costruire proprio un oggetto. Quindi, insomma, è stato anche prove tecniche, giustamente, e che, insomma, fanno capire l'importanza di questo momento e hanno dovuto anche elaborare la planimetria complessiva e i studi tecnici delle singole strutture prima di rispondere poi alle domande di un'intera piazza. Questo è quello che hanno dovuto fare, ad esempio, i geometri con tanto di tettori e costruzioni e tutto. Fabi Fibra, Emma e Baby Gang in Italia 2024 Gli eventi della settimana a cui io e Ribi non andrei oggi carica a manetta Perché sei così carica? Perché è il primo giorno d'estate Ah, ok, va bene Perché fra due giorni è il mio compleanno Ecco, sapevo che era più per questo Si vede anche dalla tua camicia, infatti, che sei molto carica Sì, io sono molto contenta perché l'estate è proprio bella al di là della piccicume e di tutta questa umidità che si è creata Stanotte è stato un incubo Umidité fraternité Questa notte è stata la prima vera notte da incubo nel milanese Ma anche più voluto Sì, io mi sono svegliata alle 5 e mezzo forse anche qualcosa un po' prima Stai piovendo troppo Perché pioveva veramente forte e non capivo che cosa fosse questo rumore e ho detto Allora, il ventilatore non ce l'ho Ho un coso che mi pulifica l'aria ma non fa tutto questo rumore Che cosa sarà mai? Ed era la pioggia Ah, vedi La pioggia Piove Piove Ma non si può dire altro Allora, intanto Anche perché non sappiamo la versione originale di Ungaretti Penso sia giusto Boh, non lo so Intanto mi ha stupito questa roba che ai licei abbiano scelto di fare le prove A Ma sono più facili Sono quelle che hanno studiato Sono quelle che hanno fatto una testa tanta E la dico brutta Sono anche quelle su cui non devi ragionare più di tanto Allora, mio nipote che sta facendo la maturità mi ha detto Zia, io ho scelto Ungaretti perché sennò cadevo nella banalità Eh, di là devi pensare troppo Quindi Ungaretti me lo ricordavo e l'ho fatto È aneddotica È aneddotica Comunque vorrei dire che io ho fatto la maturità ventun'anni fa Auguri Aspiterina È passato così tanto e me la sogno ancora Ecco, infatti Vabbè, ma vanno alle ciance Questo è un grandissimo weekend che sta per arrivare Soprattutto, come ho detto in inizio puntata In inizio, scusa Come si chiama questa cosa? Intervento Intervento Perché sarà il mio compleanno domenica Quindi grazie mille in anticipo di tutti gli auguri che arriveranno Sono passata oltre non me ne frega del fatto di festeggiare i 41 anni No, no Quindi va bene così Quindi tutti quelli che sono invitati qua domenica al pranzo non glielo diciamo che non c'è Perché? No, non lo so visto che non vuoi festeggiare hai detto No, no Ho detto che sono passata oltre Adesso accetto questo arrivo in 41 anni Ok, ok, ok Ok, vabbè 41 41 anni 41 anni di vita trascorsa in qualche modo Quindi hai fatto la maturità a 20 anni Ho fatto la maturità a 20 anni perché ho perso un anno Ah, ok infatti no Però, altro aneddoto perché è nato così sotto date importanti io ho fatto la terza prova il giorno del mio compagno Ah, sì, sì E non potevo saltarla come faccio solitamente con il lavoro Questa notte va male, domenica Questa notte mi va male, domenica Recuperi? Volevo recuperare il lunedì ho dovuto recuperare il martedì ma va bene così Va bene così Allora ragazzi Andiamo? Andiamo Andiamo Allora, per i tamarri di voi Sì, ci ne abbiamo tanti all'ascolto Questa sera alle 21 a Marrofiera C'è il magico capitano C'è il super concerto di Gigi D'Agostino Gigi D'Ag Mamma mia raga Fatevi tante foto Secondo me qualcuno che conosciamo ci va Sì, io ho degli amici di Facebook Che grazie a loro Pensavo non ciotto Luca questa mattina Ma no, secondo me no Alessia vorrebbe secondo me Ma c'è impedimenti Soprattutto gli amici di Luca Tra l'altro di due Luca Anche di un altro Luca potrebbe essere Non lo so, Luca deve essere un nome insomma che porta amicità Marri Ciao Lucchi Luca, Luca, Luca Luca Non è così una canzone di No, è un mix di canzoni Però va bene Comunque Poi, poi Allora Domenica Io sono impossibilitata Però mi piacerebbe tanto andarti Tu sei impossibilitata perché stai festeggiando il tuo compleanno Sì esatto Sono impossibilitata Avrei potuto portare tutti i miei amici a questa cosa Ma non la farò A Baranzate Fanno una roba nuova Perché la prima edizione È Baranzate Comics Dalle 10 alle 17 in Piazza Falcone Ma stai che stanno facendo una cifra di cose a Baranzate In questo periodo Perché sai che io sono un amico del sindaco Ogni tanto lo sento Che anche lui è Luca Tra l'altro è Luca Anche lui è vero No, hanno fatto tantissime cose Hanno fatto anche una sorta di Pride nei giorni scorsi Ah, interessante Anche sulla Disability Pride Ah, veramente interessante Complimenti a Baranzate allora a tutti quanti Poi sabato, domani, 22 giugno dalle 18 C'è la Birrofila Birrofila O Birrofilia Vabbè, comunque Forse Birrofilia In via Amperio Non so, fanno una fila o hanno paura Aspetta No, è un luogo la Birrofila Scusate In via Amperio 14 Che è in zona Cermenate Va che brava Municipio 5 C'è questo evento che si chiama A.A. Sbronzatissima A.A. Sbronzatissima Esatto Festa di inizio estate Io non ci andrei solo per il titolo Vabbè, tanto ci sarà da bere Quindi questo Già sono esclusa Hai già dato nella tua infanzia Sì, esatto Nella tua infanzia Mi sembra un parolone La tua adolescenza La mia tarda adolescenza Tarda adolescenza E fino a tarda È andata avanti Però complimenti Per questo Stavo dicendo una cosa Per questo titolo Ok Dopo che io ieri ho detto Che avevo il castello del Playboy Invece che del Playmobile Vuoi dire Tutto quello che vuoi Sono morta Sono morta Poi c'è una roba carina Sabato 22 Dalle 20 Al Castello Sforzesco C'è Castello Loves Rock and Roll Scusa Castello Loves Castello Loves Rock and Roll Ok Sì, è interessante Ci sono anche dei maestri Che fanno Come si chiama Dimostrazioni di ballo E ci si può andare E che temo che ci siano un po' di invasati Guarda, mi hai anticipato Perché su Repubblica di oggi C'è un titolo Di un giorno Di un articolo Che è Luglio e Agosto Castello Mio ti riconosco Cioè c'è praticamente Qualsiasi cosa Fanno a Castello Sforzesco Sì, sì Ho letto anch'io ieri La famosa estate sforzesca Quest'anno è strapina di robe Infatti ho detto Peccato che la trasmissione Finisca la settimana prossima Perché sicuramente Delle perle Fino a metà Di luglio Ma anche su agosto Secondo me ci saranno Delle perle grosse Ormai la gente Non va più sempre In vacanza d'agosto Quindi c'è un po' Di intrattenimento Anche da parte del comune Sul mese di agosto La cosa interessante È che La direttrice Dell'estate sforzesca Quest'anno È Giulia Cavaliere Che è una musicologa Ok, quindi per quello Che è stata fatta Ma è anche una wedding planner Ah, pensa E mi pensate Come ha unito le due cose Pensa, pensa Quindi matrimonio felice Potresti invitare A dei wedding planner Perché è Molto interessante L'altro giorno Abbiamo avuto Quelli del Bonton Del Galateo Con i ragazzi e i ragazzi Io l'altro giorno Ho visto Delle stories Di una Influencer di Milano Posso dire chi è Sì, sì A Milano puoi Lei si è appena sposata E A Piacenza Eh, va bene Mi ha fatto ridere Questa cosa Ma posso dire Va bene, fa niente Evidentemente La location mi ritrava Posso dire cosa Ti chiami a Milano puoi Non ti spiace Eh, però va bene Fa niente Lasciamo perdere Polemica Polemica Sì, esatto Sono soltanto le 7.41 Quindi smettila Come si dice Vabbè, cosa ha fatto A Piacenza Diceva che cosa Assolutamente Gli hanno fatto Domande sul matrimonio Gli hanno detto Da che cosa partire E come prima cosa Ce l'ho Ce l'ho Lo sposo No Wedding planner Eh, ma io ho capito Io raga Adesso non sarà No, lei non è un wedding planner No, no, no Però Cioè, non tutti Devono usare un wedding planner Cioè, secondo me Ci sono anche delle cose Molto belle Da Da Organizzare Cara Namieri B E qui è la differenza Tra chi va in agenzia Per notarsi le vacanze Per l'estate E chi se le fa da solo Su internet Cioè, nel senso Ma non è che ne sbaglia Uno c'ha ragione l'altro Anzi, io immagino Ho degli amici Che fanno un tipo di vacanza Andando in agenzia Diventerebbero matti A farla Da soli Su internet Io Diventerei matto Ad andare in agenzia Sì Quindi, cioè Lì dipende dalla persona Quindi Se uno vuole stare tranquillo Esatto Diceva proprio per questo E vuole E vuole fidarsi Di altri Che magari Lo fanno proprio di mestiere Diciamo I maniaci Cioè, quelli come te Che hanno il maniaco Del controllo Non possono dare Non possono dare Al wedding planner Cioè, tutto E ribi tutto Tranne che maniaca Del controllo Ma non lo so Sono cominciato A rivalutare questa cosa Ho dei controlli Su me stessa Vediamo Comunque Niente Se volete Il wedding planner Cercatevi Ma non c'è nessun vento Questo no Era un soldone Una cosa Molto interessante Mi piacerebbe sempre Ma come abbiamo detto Questo weekend È troppo impegnativo Per quanto mi riguarda Ci sono i mondiali Di ginnastica ritmica Da saggo al forum Ah, so che molte Dele nostre ragazze Dello stage Che hanno fatto qua Stagio Allora saranno lì Molto interessante Per me è top Due cose al mondo Sono bellissime Uno Le sincronette Due Ginnastica ritmica Artistica Top Che non accumula Perché non è che Si ammanta Di loro Fa niente A me non interessa Queste sono le Le discipline Che mi interessano Ma ne hai ancora tanti Ne hai? No Ne ho uno soltanto Ah ok No no Se no ti faccio Sentire una canzone E poi No no Poi diventa troppo tardi Ho fame No no Fai pure tu Decidi tu Decidi tu la regia Fai niente Adesso vado via Allora Questo ovviamente Per ovvi motivi Non andrò Troppo comunque Hai fame Perché non hai ancora Fatto colazione Ah ok Cioè sono così Senza aver fatto colazione Senza neanche aver preso un caffè No esatto Non ci andrò Per ovvi motivi Perché è domenica 23 Che è il giorno santo Santissimo Precetto la maglia Quel giorno lì Tra l'altro vi dico Il 23 giugno Sono nati Zinedine Zidane Sì Che è grande testata Cioè ricordiamo tutto E Fabio Volo E Emilio Fede Ma però Orca boia Sei in grande compagnia Esatto Sono in grande compagnia Cioè grandi cose Comunque Mi dispiace per qualcuno Dei miei invitati Al mio compleanno Perché so che il tema È sensibile Sarebbero voluti andare lì Sarebbero voluti andare lì È un gran picnic Al parco Sempione Organizzato È un vinificio È un vinificio Sì Ti puoi comprare Delle box Sì esatto Ti puoi comprare Delle box E ti dicono Mi raccomando Portati la coperta Poi al cibo Ci pensano loro Però tu l'hai comprato Ok Va bene Basta Ho finito Va bene Tutti i begli eventi Ma tanto nessuno di questi Equivale al tuo compleanno Quindi nel senso Nessuno Esatto Poi vi racconterò Che cosa ho pensato Per l'evento del mio compleanno Non ce lo puoi dire Quando ce lo dirai Settimana prossima No settimana prossima È troppo un disastro L'ultima puntata Non ti ascolteremo neanche Vabbè allora Allora ve lo racconto Siccome io ho un grande difetto Non so mangiare Ah solo uno Pensavo fossero di più Non so mangiare Mi sporco sempre mangiando Ok E una delle cose Che amo di più mangiare È gli spaghetti al sugo Al pomodoro Al pomodoro Ho invitato i miei amici Per domenica pranzo A venire a mangiare La spaghetti al pomodoro A casa mia Ok Rigorosamente Tutti con una maglietta bianca Tutti maglietta bianca Così che ci si sporchi tutti Io mi sporco sicuramente Va bene ok Sai dei foto poi C'è un premio di chi Sarà l'unico che non si sporca Se sarà l'unica che non No Chiaramente chi non si sporcherà Gogna Perché il gioco è sporcarsi Ne buttato nel pentolone Esatto Ma io sono sicura Che ancora prima di mangiare Mi sporcherò Però vabbè La speranza è venuta a morire Comunque Grazie Ribi Grazie a voi Vabbè Di prossimo comunque vieni Che è l'ultima puntata Certo Cerchiamo qualche vento scoperante Dobbiamo dare gli eventi per l'estate Ah vado in lungo? Eventi fino a settembre Dai vado un po' in lungo Vediamo se c'è qualcosa di interessante Va bene Grazie mille Ribi Grazie a voi La settimana prossima Andiamo con la musica Rose Villa in Click Boom Alle 7.46 minuti Qui su Crystal Radio Good morning Milano Rose Villa in Click Boom Ho 7.50 minuti 7.50 minuti Venerdì 21 giugno Grazie per i Whatsapp Grazie Alberto Che ci scrive al 331-78-53555 Cosa ci scrive? Ci scrive un saluto a tutti gli ascoltatori A Elisa e al direttore Fabio Allora Io adesso qua chiudo tutto Non esiste che salutino prima te di me Cara mia Elisa Redazione Adesso va bene tutto Carina Simpatica Gentile Molto brava Anche troppo volte Però Cioè che adesso Il tuo nome arriva prima del mio Nei saluti Cioè direttore c'è scritto Oh Che è sta cosa Comunque Vabbè Vabbè Dai Siamo alla fine E forse se lo merita anche Perché davvero davvero Io se devo dirlo Anzi rubo un minuto Così di diretta Per dirvi davvero che Se in questi mesi Tutto quello che avete sentito Vi è piaciuto Tutto quello che abbiamo fatto È stato All'altezza Della trasmissione Che vorremmo fare Tutti i giorni È grazie Soprattutto Molto più A quello che faccio Tutti i giorni Che è venire qua A raccontarvi le cose Al grande lavoro Che fa Elisa Galmarini Al di là di quel vetro Tutti i giorni Tutto il giorno A sentire i miei ospiti Tutti i giorni A anche proporre idee Non ve lo posso dire adesso Cioè l'idea Di andare a fare l'esterna Davanti alla scuola Superiore Non è stata Tutta roba mia Anzi È arrivata da uno Suo suggerimento E poi è stata elaborata Grazie a lei Quindi davvero Grazie Te lo dico oggi Elisa Perché poi venerdì prossimo Saremmo rotti dalla commozione Quindi te lo dico oggi Grazie Elisa davvero Per tutto il lavoro Che hai fatto in questi mesi Con noi E spero davvero Che da qui in avanti Ci sia un futuro Prospero Roseo E fatto di tante radio Che si accapagliano Si prendono a pugni Per portarti Nel loro studio Davvero Perché te lo meriti Te lo meriti davvero E quindi anzi Grazie Alberto Per salutare prima Elisa Che merda A parte gli scherzi Davvero Questa trasmissione Senza Elisa Non l'avremmo Potuta fare così bene Come credo Posso dire Un po' modestamente Siamo riusciti a fare In questi mesi Appunto grazie al suo aiuto Ti dice anche Buon weekend Grazie Alberto Buona estate E anche Se guardando Dalla finestra Non vedo il sole Comunque Buona estate In realtà Adesso in questo momento Stiamo guardando che sta Di nuovo uscendo Un timido e pallido sole Quindi speriamo in bene Nel senso che Dovrebbe forse poi domani Piovigilare ancora un po' Poi No domani no Domenica mattina Poi sì Poi domenica Dove se c'è bel tempo Insomma come al solito È inutile darvi le previsioni del tempo Andate a vedervi Le previsioni del tempo Praticamente fra tre ore Quello che succede Sul vostro telefono Perché è l'unico modo Per sapere il tempo Ormai È impossibile Fare altri ragionamenti Invece Un altro saluto Siamo a fine stagione Di tutto Anche il basket È arrivato a fine stagione Con l'Olimpia Che vince Lo scudetto E Con il capitano Il capitano Niccolò Melli Che saluta Invece L'Olimpia Milano In un comunicato La società Aveva detto Che appunto L'Olimpia Milano E la sua proprietà Ringraziano Niccolò Melli Per tutto quello Che ha fatto Per il club In questi anni E che appunto Adesso Le strade Si divideranno Melli Rispondi dai suoi social È stato un onore Vestire i tuoi colori Olimpia E essere il capitano Dello scudetto Della terza stella Così ha scritto Melli Vorrei dedicare un grazie Speciale alla proprietà La dirigenza Ai ragazzi Le ragazze dell'ufficio Allo staff tecnico Allo staff medico Ai performance team E ai tifosi Il grazie più sedito Va però ai miei compagni di squadra Per i quali E con i quali Ho vissuto Intensamente Questi anni È stato un Privilegio Adesso Melli Se ne va Chissà dove andrà Alcuni dicono Fenerbahce In altri Lidi Però insomma Vedremo Nella prossima stagione Dove l'ex Ormai capitano Della Olimpia Milano Niccolò Melli Andrà a militare Sicuramente Milano perde Un grande capitano E anche lui Comunque Rotto all'emozione Ha ringraziato tutta Milano E questo era Bombarle con Jamming Alle 8.08 Benvenuta A Silvia Gatti Buongiorno Non la sigla oggi Grazie Buongiorno Silvia Grazie Mi dispiace Che non ascolteremo La sigla Sono affranta Davvero Guarda Sono affranta Ma ha rovinato La reputazione Radio Panica Già flebile Però si sentono Degli uccellini In sottofondo Io li sento Almeno Li ho sentiti Prima Come diceva Buongiorno Silvia Brava Irene Irene di Recup Intanto Che cos'è Recup Allora Recup È un'associazione Nata a Milano Nel 2016 Che si occupa Di recuperare Frutta e verdura Che rimane In venduta Nei mercati E la ridistribuisce Gratuitamente A chiunque La voglia Quindi Tutto quello Che vi è capitato Magari Di vedere Ammonticchiato Dopo i mercati Come spazzatura Ora noi lo intercettiamo Prima Ce lo facciamo Donare Dai commercianti E lo ridistribuiamo Ai passanti Ai volontari Le volontarie stesse Alle persone Che vengono al mercato Perché sanno Che quel giorno C'era Recup E ognuno Può prendere Quello che vuole Nel rispetto Ovviamente Degli altri partecipanti Ma vogliamo Chiarire una cosa Voi date Questo avanzo Fra virgolette Immenso Che poi Parleremo anche Delle quantità Di frutta e verdura A chi ne ha bisogno A chi non può comprarla O è qualcosa Destinato a tutti Come dicevi Allora Chiaramente Il nostro intento È quello di Dare una risposta Concreta Alla crisi climatica Per quanto riguarda Questa fetta Di problema Che è veramente Un flagello Del nostro Mondo di ricchi Diciamo Quindi il nostro Intento è quello Di dare questa risposta Concreta Alla crisi climatica Raccogliendo cibo Che altrimenti Andrebbe buttato Che ovviamente Rappresenta Uno spreco In termini di CO2 Di forza lavoro Di terra Di acqua Eccetera 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 Buona parte Di questo cibo Chiaramente va Anche a persone Che ne hanno bisogno Ma il nostro Principale obiettivo È quello di spiegare Di dimostrare Che c'è tantissimo cibo Che buttiamo via E che quindi Dovrebbe essere destinato A tutti e tutte Coloro che mangiano Frutta e verdura Quindi un po' A tutti quanti Che dovrebbero consumare Prima il cibo Che altrimenti Andrebbe buttato Invece di comprarne Di nuovo Quindi se vedete Delle volontari O dei volontari Di Recoup Nel vostro mercato Di zona Non fatevi scrupolo Ad andare a prendere La frutta e la verdura Che hanno conservato Per noi Non li state Togliendo a nessuno Ok Non state approfittate No perché mi diceva Interessante Non ci avevo pensato A questo tema Io conosco Da un po' di anni Recoup Sono stati ospiti Tante volte qua Abbiamo anche premiati In un Milano Storytelling Awards Però effettivamente Non ho mai pensato A questa particolarità Irene diceva A volte la gente Si fa un po' di scrupolo Ha già il sacchetto in mano Vero Irene Diceva No ma io l'ho già comprata Guardateli a chi ha bisogno Si Lo diamo anche a chi ha bisogno Certo Assolutamente Però a volte Ne abbiamo di più Soprattutto d'estate Quando fa caldo E quindi il cibo È più facilmente deperibile Si Abbiamo Della frutta e della verdura Che non riusciamo A ridistribuire O che comunque Facciamo fatica a ridistribuire Quindi Quando invitiamo i passanti E le passanti A prendere Sacchettini di frutta e verdura Mi raccomando Prendeteli Non c'è problema Una bella macedonia Magari la sera stessa Perché spesso mi diceva Magari è frutta un po' avanti Molto matura E la gente magari Non la guarda più Non la vuole più Noi siamo abituati Ne parlavamo ieri poi Con Irene Al telefono A vedere Una frutta Una verdura Molto bella Nelle forme Precisa Armonica Con i colori giusti Irene ieri addirittura Mi diceva Mi faceva un esempio Delle albicocche Vero Irene Che hanno addirittura Un volume Entro il quale Devono stare Per essere vendute Nelle catene Un calibro Un calibro Esatto Vale per tutta La frutta e la verdura Al supermercato Si può guardare Sull'etichetta C'è scritto calibro Blah 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 Quindi le albicocche Che sono per esempio Che sono più piccole O più grandi E che non hanno Questo calibro Non vengono vendute Al supermercato Poi le mangi Non sanno di niente Perché quante volte Due euro al chilo E passa di roba Le fragole Io sono un amante Le fragole E sono anni Che non sento Una fragole Che sa di fragole Tutta acqua Sì Abbastanza sì Tutta acqua Purtroppo sì Mi è capitato recentemente Di andare da un parente Che ha un orto Ho assaggiato le fragole Del suo orto E sono rimasta Spiazzata Non ce lo ricordiamo più Noi di città Ecco come doveva essere Ecco come doveva essere Irene come sta in piedi Recoup Grazie ai volontari Grazie al lavoro Di tantissimi volontari E volontarie Cerchiamo sempre Ovviamente sostegno Economico Perché per fare andare avanti Un'associazione È indispensabile E soprattutto È indispensabile Avere un po' di persone Che possano dedicare Le migliori ore Della giornata A Recoup E non soltanto I weekend O le sere O comunque Quello che avanza Dalle proprie giornate Lavorative In studio Quindi Questa è la nostra Grande difficoltà Siamo sempre Alla ricerca Di sostegni Di vario tipo Quindi partecipiamo A un sacco di progetti In questo periodo Che è Il momento di dichiarazione Dei redditi Stiamo cercando Di fare una campagna Per avere il 5 per 1000 Delle persone Che non sanno A chi donarlo Come sapete Il 5 per 1000 È una quota Che bisogna dare Per forza Si tratta soltanto Di scegliere A chi darlo Perché altrimenti Va credo Allo Stato O non so Alla chiesa Dipende dalla scelta Dell'8 per 1000 Quindi È una porzione Del nostro reddito Che noi dobbiamo Comunque Dare Se non scegliamo Possiamo scegliere A chi darla Quindi Noi stiamo cercando Di intercettare Sempre più persone Che vogliano donarci Il 5 per 1000 In questo periodo Perché per noi È un enorme Sostegno Quindi siamo Sempre Ha fatto bene a dire Ricordarlo che appunto Il 5 per 1000 Come anche l'8 per 1000 È comunque preso Dalla nostra dichiarazione Dei reti O meglio Pensate Lo Stato rinuncia Con la parte Che carini Che sono 5 per 1000 Praticamente Quasi niente Che però Magari per lo Stato Non è niente Ma per molte associazioni Fa la differenza Quindi possiamo destinare Basta avere il codice fiscale Dell'associazione In questo caso appunto Sicuramente sul vostro sito Ci saranno tutte le indicazioni Sul sito sì sì C'è un bello grande Basta dare Quel numero lì Che è il codice fiscale Di Recupi In questo caso Al proprio commercialista Oppure se lo fate voi Inserirlo dentro Se fate il precompilato Basta inserirlo dentro Nella riga del 5 per 1000 E date il 5 per 1000 A Recupi È molto semplice Sul sito Vogliamo dire il sito Irene Per trovarvi Sì associazionerecup.org Ci sono tutte le informazioni Che riguardano Che riguardano gli altri progetti Non lo so A San Siro Quindi dai 35 Prima degli anni 80 Prima degli anni 80 Cioè fino agli anni 70 Addirittura andavano in 70 No 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 Quelli nati Quelli nati Quelli nati Dove è presente Dove è presente Recupi a Milano A San Donato Che è in provincia di Milano E a Roma Ma Recup fa anche altri tipi di eventi Spiegaci Irene Sì Allora intanto partecipiamo a Fiere eventi di divulgazione Per cercare di spargere il verbo Poi recentemente per esempio Ma è solo un esempio Sì Abbiamo organizzato due pranzi No una cena e un pranzo gratuiti Aperti a chiunque Bastava iscriversi E in particolare qualche settimana fa Il format si chiama Junk Food Sono dei pranzi vegani Tutti di cibo recuperato Fantastico Perché è prossimo alla scadenza O appena scaduto Ma ancora perfettamente sicuro Sì Nell'ultimo pranzo abbiamo dato da mangiare A cento persone Più di cento persone Gratuitamente con cibo recuperato Quindi insomma di cibo Per mangiare per tante persone Ce n'è Ce n'è veramente tanto Mi piace molto il titolo poi Junk Food Una cosa che in teoria Infatti è una cosa che in teoria È il male più assoluto Invece voi Cambiate Non tanto la parola Ma la motivazione per cui la utilizzate E appunto da questo Junk Food C'è fuori invece un cibo che fa bene È anche un'occasione sociale Perché cento persone che Mangiano insieme A sbaffo Chissà cosa succede Cento persone che mangiano a sbaffo Soprattutto Eh vabbè Oh se no andava nel cestino Bella bella No no infatti Irene Sì Poi anche per sensibilizzare Giusto Sulla dieta un po' più vegetale Brava Di divulgare anche un po' in questo senso Irene Poi è molto interessante che questo Cioè che appunto Cioè con solo un recupero Perché poi non è che c'è Nel senso Con un po' di Un pochino di recupero del cibo Che va a dire Avete fatto mangiare cento persone Cioè quindi fa capire l'entità Di quanto cibo viene sprecato Tutti i giorni In tutto il globo poi Nel senso che Quanta gente Potrebbe mangiare tranquillamente Solo recuperando il cibo Che non è più Così bello Da poter essere venduto Perché poi è buono Quello il concetto Sì ma di cibo ce n'è anche di più Noi abbiamo dato mangiare A cento persone Perché a livello logistico Per una questione di trasporto Di pentole Di spazi Non riuscivamo A fare di più Ma avendo potenzialmente Spazio infinito Pentole Di dimensioni Infinite E non avendo Il problema della logistica Avremmo potuto dare da mangiare Pensa Ancora più persone Quindi veramente Di cibo ce n'è tantissimo Come Recoup Noi attualmente Recuperiamo intorno alle 11 Tornellate a settimana Di cibo Ma ovviamente È quello che riusciamo a fare Con le nostre forze Avessimo più forze Avessimo più 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 mezzi Potremmo recuperare ancora di più Dicevi che avete fatto Una crescita abbastanza importante Tuttavia però ancora lenta Proprio per questo problema Mancano Sicuramente risorse economiche Ma anche persone Giusto? Quindi iscrivetevi Mancano persone Da quando siamo riusciti A pagare Alcune persone Che lavorano A Recoup Siamo in pochi Io no Sono ancora volontaria Ma ci sono delle persone Che lavorano a Recoup Abbiamo visto una svolta Davvero Importante Cioè persone che si svegliano Quindi con la crescita di Recoup A video dove cucina Cucina con gli scarti di frutta e verdura Scarti che però Noi non lo sappiamo Ma sono commestibili Ovviamente lui ha tutta una serie di Conoscenze Che gli permettono di Far insomma ricette Che poi non vanno di traverso E che sono comunque gustose Però è incredibile quanto noi buttiamo Pensandosi a scarto E invece si può cucinare Mangiare anche con gusto E cucinare ti dirò Caro Fabio Sai che io non friggo neanche un uovo Essendo pure vegana Figurati Cucinare neanche con tutta questa difficoltà Ti dirò Ah vedi vedi Quindi rucolino 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 Seguitelo Ovviamente io credo che lui abbia fatto Degli studi inerenti anche alla chimica Di certe cose eccetera Quindi comunque Ecco volevo segnalarlo Allora lo seguiamo Irene rimani con noi Perché adesso andiamo con un po' di musica Poi torniamo qui ancora a parlare di Recoup Sempre qua su Crystal Radio Good morning Milano Questa la mettiamo Perché so che alla Silvia Gatti Alla Silvia Gatti Piace come si cita le nostre parti Ah no Stai male? Britney Ah no pensavo stessi male Ah scusa Pensavo avessi avuto un problema gastroenterologo Che orrendo che sei No va bene Me ne vado Me ne vado Britney Spears con Baby One more time Diamanti Grezzi Invece è un diamante più Che c'è proprio super Non so cosa dire Silvia Gatti No infatti basta No mi son perso Silvia Gatti Il nostro diamante Ma smettila Settimanale Poi mia madre è troppo fiera Eh beh insomma Finalmente Finalmente qualcuno Comunque No vabbè Allora torniamo serio Abbiamo un ospite serio Che ha un progetto serio E collabora a un programma serio Irene Panizza E ci chiediamo cosa ci faccia qui a questo punto Perché ci vuole bene Non sono così seria in realtà Grazie Irene Il progetto di Recoup è serio Dicevamo Recoup recupera e salva dallo spreco frutta e verdura nei mercati di Milano San Donato in provincia di Milano e Roma Trovate tutto sul loro sito che è Irene Associazionerecoup.org Ci troviamo Troviamo anche sui social Vero Recoup Su Instagram e su Facebook Instagram Recoup underscore org Su Facebook Recoup Abbiamo Linkedin Sempre Recoup Anche Linkedin Siamo un po' ovunque Ecco Ok Io Sai che completerò Sul sito La scheda Perché voglio essere volontaria Ok Te l'ho già detto Perché c'è un mercato dietro casa mia Quindi vado lì Collaboro Mi prendo frutta e verdura Che cosa succede? C'è una formazione Prima di entrare a far parte del vostro gruppo Anche come volontaria E poi cosa fa nello specifico punto volontario? Sì Sì allora esatto Nello specifico che cosa facciamo? E come partecipare? Allora sul sito appunto dicevamo C'è un form che si può compilare Ci arriva una mail E venite ricontattati Per essere inseriti in una call informale Di una mezz'oretta Che facciamo settimanalmente Che serve a spiegare alle persone Che si stanno approcciando a Recoup Che cosa facciamo? Giusto per essere sicuri Che poi gli aspiranti volontari e volontaria Siano consapevoli di quello Perché magari per sentito dire Uno capisce un'altra cosa Giustamente Quindi dobbiamo assicurarci di spiegare Brava Che cosa si fa in pratica Quindi c'è questa call di formazione Molto informale Di una mezz'oretta Che serve anche a spiegare Come fare l'iscrizione Perché ovviamente siamo un'associazione Dobbiamo rispettare delle regole Di tipo assicurativo e non solo E quindi per partecipare attivamente Bisogna iscriversi L'iscrizione è di 10 euro E vale un anno Quindi comunque è abbastanza abbordabile Comprende la copertura assicurativa E la maglietta Che usiamo al mercato Per essere riconoscibili Certo Di banchetto E poi dopo si gira per il mercato Chiedendo ai commercianti Se abbiano dell'invenduto I commercianti ci donano queste cassette O talvolta le troviamo Accoggiate di fianco ai banchi Addirittura? Sì a volte le lasciano per noi A volte È un caso Sono molto presi dal lavoro Quindi magari si Insomma si dimenticano Però insomma quello che scartano Quello lasciano lì E quindi lo possiamo prendere Queste cassette le portiamo alla base Quindi al nostro banchetto E lì avviene un minimo di smistamento Quando necessario Sì Pesiamo il recupero In ogni mercato Sì Abbiamo la bilancia E quindi pesiamo Per capire e tracciare Quello che è il nostro lavoro Per capire il nostro impatto Certo E dopodiché avviene la ridistribuzione Il recupero e la ridistribuzione Sono contestuali Cioè si fanno più giri Ma la mano che si recupera Si distribuisce Lì al mercato Arrivano delle persone Che sanno Che quel giorno lì C'era CUP Quindi Prendono quello che vogliono E poi invitiamo anche i passanti A prendere Sacchetti di frutta e verdura A prendere quello che vogliono Qualora avessimo degli avanzi Oltre a prendere noi Quello che vogliamo I Volontari e collaboratori Volontari e volontarie Prendiamo quello che Quello di cui abbiamo voglia Ecco La risposta delle persone Com'è? Sono entusiasti Oppure C'è qualcuno che dice Ma no Sarà roba da buttare Alla fine Non mi fido Guardano un po' Magari strano O invece è una buona risposta Entusiasta Anche perché È roba gratis Ragazzi La parola d'ordine La parola d'ordine Quando le persone si avvicinano Un po' Con una faccia Interrogativa È sempre Gratis Gratis Vedi Fabio Lo sapevo Gratis Ma sai cos'è? Gratis Quindi noi Si può anche rispolverare Un vecchio Provare per credere Tu Oh è gratis Prova E poi vediamo Sura Maria Grazie di essere Non lo stai comprando Infatti Sì poi a volte qualcuno Magari talmente spiazza Che magari non conosce Il progetto Arriva lì Prende le cose Che fa Ma ma Vi do qualcosa Vi do 5 euro Ovviamente non prendiamo soldi Ok certo Perché Sì 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 Assolutamente Da evitare Perché I commercianti potrebbero vedere Che Certo che rivendete Sì 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 Non rivendiamo noi E se qualcuno vuole fare Una donazione Si fa In elettronico Su altri canali Non prendiamo soldi Al mercato ovviamente Quindi qualcuno Sul sito se vuole Certo 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 Altri dicono Ma no Datelo che bisogno E qualcuno è diffidente Cioè Non risponde Come se volessimo Vendere qualcosa Sul sito Trovo anche la lista Gli orari Di dove siete Tutto Trovo come funziona Sì 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 C'è tutto C'è tutto C'è tutto Irene Differenze Milano-Roma Che tu sappia Allora Curiosità mia Differenze Milano-Roma A me interessavano già Differenze Milano-Sandorato Secondo me ci sono Allora Al mercato di San Donato Nello specifico Non sono mai andata Ammetto la mia colpa Però Penso che Il mercato di San Donato Sia abbastanza simile Ai mercati di Milano Si spero A Milano Quindi siamo un po' Allo stesso Roma come reagisce? Roma I mercati di Roma Sono un po' diversi Nel senso che Non so se avete presente I mercati di Milano Sono mercati su strada Diciamo Non sono Le bancarelle Non sono all'interno Di una struttura A parte alcune Eccezioni Dei mercati comunali Comunali Esatto Sì 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 Sono mercati Scoperti Mentre a Roma La maggior parte Dei mercati Sono all'interno Di strutture Chiuse Quindi c'è una sorta Di direttore del mercato E tutte le bancarelle Fanno parte di Di una sorta Di mercato comunale Coperto Sì Quindi è un pochino Diversa la struttura Che bene Il direttore del mercato Mi piace Se mi va male A fare il direttore della radio Vado a fare il direttore del mercato Prendimi Mi piace Mi piace Sono veramente grande Con i carciofi E anche con le zucchine A Roma poi i carciofi Vanno di brutto Esatto Boni Sì Quindi Ma la risposta com'è? Nonostante siano tutti riuniti Sotto diciamo Un certo ombrello Quindi al chiuso Mercati strutturati In modo diverso Com'è lì? Come viene vista Questa cosa Dalle persone Da coloro che fanno Il mercato? Anche lì Devo dire bene A Roma Credo che Si collabori Soprattutto Con altre Organizzazioni Ovviamente Abbiamo Collaboriamo Con Abbiamo dei network In ogni quartiere Sì A Milano C'è molto la Ridistribuzione Tra persone Che vengono al mercato A Roma Credo che Sia Predominante Un po' Quello di fare Da tramite Di organizzarsi con altre Organizzazioni Per fare un po' Da tramite C'è una rete Un po' più ampia Diciamo così Una rete Una rete un po' Più ampia Sì Che è la stessa cosa Che facciamo Più o meno Un po' Un po' Diverso Però Più o meno La stessa cosa Che facciamo All'orto Al mercato All'ingrosso Di Milano Perché recuperiamo Anche al mercato All'ingrosso Certo Che non è aperto Al pubblico Quindi è Soltanto per Gli addetti ai lavori Quindi i commercianti Che vendono al mercato Si riforniscono Al mercato All'ingrosso Sì I quantitativi Sono molto più grandi Certo E in quel caso Noi recuperiamo In genere il giovedì E il venerdì mattina Tonnellate A giornata Mamma mia Che impressione Quando dici tonnellate E in quel caso Il cibo è veramente Praticamente Perfetto Perfetto Sì Il cibo bellissimo Perché ovviamente Lì è l'ingrosso Quindi non ha fatto Tutta la Figliera Certo I passaggi Eccetera E lì collaboriamo Con altre organizzazioni Per esempio Croce Rossa Che vengono a prendere E distribuiscono Nei loro Hub di distribuzione Come vi siete presentati Per chiedere Di entrare In questo posto Dove sono ammessi Comunque Solo i rivenditori Diciamo così È successo Durante il covid Ah Il periodo del covid Tutto si è fermato Lo sapete benissimo Lo sappiamo tutti Compresi i mercati Sì Quello che però All'ortomercato Il comune di Milano Aveva organizzato Era una sorta di Progetto solidale Sì Per cercare di sostenere Tutte quelle famiglie Che con il covid Sono rimaste Famiglie e persone Che con il covid Sono rimaste Anche senza cibo Insomma quasi In grande difficoltà Anche senza cibo Sì E quindi ci siamo inseriti In questo progetto Del comune E da lì Non siamo più usciti Cioè quindi poi dopo Perfetto Abbiamo partecipato A un bando Quindi da cosa Nasce cosa Siete rimasti lì Con successo Con successo Con successo Anzi adesso Collaboriamo Lì all'ortomercato Facendo funzionare Il progetto Grazie al volontariato Aziendale Perché ovviamente Avere volontari Recoup In settimana In numero sufficiente È molto complicato Sì È faticoso Invece con questa Trovata Del volontariato Aziendale Stiamo riuscendo A far funzionare Le cose Quindi aziende Che dedicano Una parte Delle ore Dei loro dipendenti A un'attività Che non è Quella classica Lavorativa Dell'azienda Propria Ma Ha un'attività Utile Quindi questi gruppi Di volontari aziendali Vengono Una mattinata Ci aiutano E noi riusciamo Ad avere Questo gruppo Di persone Necessarie A portare avanti L'attività Che bella cosa Che bella cosa Delle aziende Vogliamo ripetere I contatti Di Recoup Dove prendere informazioni Dove vedere Dove ci sono i mercati Come partecipare Da volontari Nel caso Irene Ripetiamo Allora Associazionerecup.org È il nostro sito C'è tutto 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 L'abbiamo fatto Di recente Molto chiaro Secondo me Sì E riassuntivo Poi abbiamo Instagram Recoup Underscore Org Abbiamo Facebook Recoup LinkedIn Recoup Quindi cercando Recoup Ci sono altre realtà A volte che hanno Lo stesso nome Tipo una realtà tedesca Ma dovete sempre Cercare la banana La banana Ok Recoup Scritto come lo stiamo Pronunciando All'italiana Recoup Con la banana All'italiana Non si fa il logo Quindi è facilmente Riconoscibile Scusa Irene E la banana Fabio ti do le goccine Ma perché è un frutto Con amore In questo caso Con amore Fai in modo Che non vada Sprecato il cibo Quindi in questo caso È proprio il frutto Dell'amore È il frutto Più recuperato Da Recoup Delle sofferenze Dei trattamenti Povere banane Povere banane Povere E le recuperiamo Veramente E vai di frullati Con la cannella E Ma bene Abbiamo finito Irene grazie Irene grazie mille Mi raccomando Seguite Recoup Grazie a voi Di questa opportunità Grazie per quello Che fate Molto importante Convolgente Anche a livello sociale Sì Mi raccomando Quando arriva Silvia Gatti A fare la volontaria Voglio foto e video Di lei che recupera banane Vende carciofi Il giallo mi sbatte Un po' però Va a recuperare La maglietta bianca Di sol Ah c'è anche la maglietta Grazie Sì sì che mi esalta Ottimo Grazie Irene Panizza Di Recoup A presto Buona giornata Ciao Grazie mille Grazie mille ancora Irene Punto Recoup Trovate tutto sui social Su internet Andiamo con un po' di musica E poi torniamo qui Per i saluti finali Ovviamente Non potevamo chiudere Questo tema Se non con Tutti Frutti Tutti Frutti Oh Rudy 8 e 52 minuti Siamo quasi arrivati In conclusione E dobbiamo Far scendere Un po' di lacrime Sui nostri violti Ah perché tu credi Che io mi levo da qui E ti sbagli Profondamente Speranza è sempre L'ultima morire Allora abbiamo iniziato A collaborare A marzo L'8 marzo Proprio la festa delle donne A venerdì alternati Devo ringraziare Il direttore Fabio Ranfi Direttore di Milano All News Il presentatore Di Good Money Milano Tutti i ragazzi L'Elisa in regia Tutti gli stagisti Che felicemente Ogni giorno Vengono qui A fare le loro cosucce Devo dire che Fabio È veramente divertente Per niente Dittatorio Esiste la parola Dittatorio Se non ce la facciamo noi Mi sono accorta Quanto a volte vale di più La qualità Che la quantità Della diretta Lasciamelo dire Lasciami togliere Questo sassorone gigante Dai miei zoccoli Valdostani Che ho questa mattina Che non è una battuta Ce la suve veramente Ce la suve 14 centimetri Di celebrità Noi ci risentiamo Perché non voglio Anticipare molto Ma probabilmente Io da Crystal Radio Non me ne vado Non te ne vai Perché sappiamo Che Milano News È anche in diretta Tutti i giorni Dalle 7 alle 9 Dall'unidio al venerdì È il morning show Di Crystal Radio Con la K Chissà che non mi sentirete In mattinata Diciamola così Chissà Vedremo da settembre Appunto Perché salutiamo Sì perché appunto Settimana prossima Non potrei essere qui E quindi La dobbiamo salutare oggi Tutta settimana E diciamo che Iniziamo con te i saluti Facciamo una settimana Di saluti Perché poi Quante lacrime abbracci Sì lunedì saluteremo Poletti Poi giovedì salutiamo Tamaso E tutti pian pianino Appunto Vi salutiamo Poi venerdì Grande festa Qui E io mancherò Non scrocherò Da bere da mangiare Ma vi penserò Sono al mare in Sicilia Ciao Eh sì Ciao Anche bene Ma tanto poi Il 9 di settembre Noi siamo di nuovo qua Io vengo comunque Anche se non mi inviti Perfetto Ormai L'indirizzo lo sai Il codice del cancello Gliel'abbiamo dato No Meno male Meno male Almeno quello Almeno quello Grazie a tutti gli ascoltatori Anche è stato un piacere davvero Grazie Silvia grazie a te E appunto sto Che ci sentiremo sicuramente Di nuovo Su queste frequenze Come si dice in questi casi Direi che siamo arrivati Al momento quindi Di far partire La nostra sigla 8 e 54 minuti Venerdì 21 giugno Siamo arrivati alla fine Di questa puntata Di Good Morning Milano Sempre qui in diretta Su Crystal Radio Vediamo se hai imparato Silvia Chi c'è dopo di noi? Eh Curti Ambrogio Bravissima Vedi Ambrogio E dopo tre mesi Santa Ambrogio Curti Dopo di noi Con senti questa La musica raccontata Spiegata Ma soprattutto Fatta ascoltata No fatta ascoltata Non si può dire Fatta ascoltare Fatta ascoltare A tutti voi E con la grande Pansione appunto Che ci mette Ambrogio Curti Senti questa Sveglio dall'albero Non ho ancora fatto colazione Tra parentesi Io la faccio dopo Non hai preso il caffè? No 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 Sei sveglio parecchio? Il caffè non lo prendo mai Tra parentesi Sono ginseng Ginsengiano Che orrore Brutte persone Che è un po' quella cosa Dimmi che sei di Milano Senza essere di Milano Quando vai in giro Un ginseng piccolo Un ginseng piccolo Un ginseng piccolo Ti guarda come dire È arrivato il milanese Tra parentesi Ho iniziato a prendere il ginseng Perché pensavo fosse Quella roba che ti dà le energie No non è vero niente Un pochino te la dà Ma non è quello No ma perché Lo confondevo con guaranà Sì Ciao a settembre Ciao a tutti Ci sentiamo Buon weekend Ciao ciao